siamo nella sede di spediporto a genova e continuiamo a trattare uno dei cavalli di battaglia di primo canale cioè il caos autostrade che anche tra le preoccupazioni maggiori operative degli spedizionieri vero giampaolo botta direttore generale sì lo è assolutamente noi temiamo il fià il fatto che su autostrade possa un pochino mollarsi la presa ecco che c'è stata all'inizio della della vicenda purtroppo del morandi dove la politica al territorio ma la nazione avevano fatto sentire una forte pressione ad autostrade in relazione all'affidabilità della rete autostradale e a quello che era necessario fare perché venisse restituita sicurezza chi viaggia oggi ci troviamo una situazione dove i tempi di canterizzazione la programmazione dei lavori e la durata dei lavori sono un grande punto interrogativo questo per noi è inaccettabile non vogliamo e anzi auspichiamo che torni a farsi sentire forte la pressione del territorio ma anche soprattutto nazionale su di un tema fondamentale signori di autostrade tutti coloro che gestiscono la rete autostradale italiana hanno in mano un patrimonio fondamentale del paese perché le strade sono un asset fondamentale del paese quindi è dovere di chi gestisce la rete autostradale dare certezze a un paese sui tempi e sulla sicurezza della rete autostradale ecco su questo noi ci sentiamo di voler rimettere un pochino l'accento perché ci sembra che da qualche tempo a questa parte stia calando un po la disattenzione su di un tema che invece deve rimanere estremamente vivo e acceso grazie linea allo studio grazie a tutti